Realizzata con fibra d'argento puro naturale al 99,9%, la tecnologia X-Static valorizza i prodotti conferendo loro proprietà anti-odore ed antimicrobiche. La tecnologia X-Static utilizza un processo esclusivo che lega in modo permanente l'argento puro al 99,9% alla superficie di polimeri flessibili. Questo sottile rivestimento conferisce una copertura in argento al 100% sulla superficie delle fibre che ottimizza le prestazioni pur mantenendo flessibilità di impiego e morbidezza nel comfort. Il risultato è un materiale innovativo utilizzabile in numerose diverse applicazioni che conferisce un'azione antimicrobica costante ed efficace per l'intera vita utile del prodotto finito. Vediamo da vicino come funziona X-Static. Esposizioni ripetute all'ossigeno, all'aria, all'umidità provocano l'ossidazione degli atomi d'argento sulla superficie di X-Static formando ioni d'argento. Questi ioni costituiscono la base della protezione antimicrobica. Gli ioni d'argento a carica positiva sono attratti dai batteri a carica negativa. Gli ioni d'argento prima attraversano la parete della membrana cellulare per penetrare nei batteri, dove ne attaccano il DNA e ne distruggono la funzione respiratoria, la divisione cellulare e il processo di moltiplicazione. Infine, gli ioni d'argento esercitano una forte azione inibitoria nei confronti dei batteri, prevenendone la mutazione e la riproduzione. I prodotti rivestiti con X-Static hanno una riserva d'argento praticamente illimitata e assicurano un totale e continuo rilascio di ioni d'argento antimicrobici durante tutta la vita del prodotto. Poiché l'esclusiva tecnologia X-Static crea un legame permanente tra l'argento naturale puro e il substrato polimerico, non vi ha alcun rilascio di particelle metalliche d'argento, ma vengono mantenute tutte le proprietà del substrato polimerico originale, comprese le proprietà di allungamento, torsione e flessibilità. Il risultato è una soluzione efficace e naturale per il controllo della carica batterica, che è dimostrata da test condotti in condizioni estreme e trova impiego in numerose applicazioni ed utilizzi.